Non intende lasciare la sua città, non intende dare questo segno di resa. Le notizie sono proprio fresche, ieri è stata presa questa decisione al GSM. Siamo qui con il Sindaco e non c'è stato il giorno migliore per manifestare il sostegno di un'intera comunità verso il magistrato più a rischio di tannia. Siamo qui con il Sindaco che ringraziamo per averci dato questa opportunità di manifestare il nostro sostegno che immagino sia anche suo. Credo che sia di tutta la città e quindi in realtà oggi effettivamente questa è una bella risposta, è una risposta di una comunità che è vicina a uno di Matteo, persona coraggiosa che si è esposta in prima persona per delle battaglie che non ci possono vedere vicini. Quindi il mio ringraziamento alle Agende Rosse che portano avanti delle battaglie e dei temi che sono parte integrante della nostra comunità e quindi noi abbiamo risposto con grande entusiasmo il vostro appello. Grazie.